Il decreto Lorenzino e quelle sono linee guida, cioè danno praticamente alle regioni la possibilità di chiudere, di aprire, di fare tutto. È una linea guida, cioè dà delle indicazioni di come uscire in particolare dalla situazione sanitaria che c'era, che l'Abruzzo era una delle regioni canaglie, se non si ricorda, che iniziò lo smandellamento proprio per questo, il commissario ad acta, che dopo è passato ad Alfonso, il quale è il commissario che decide la chiusura o l'apertura di reparti. Questa è una cosa acclarata, quindi è una scelta ben precisa politica fatta da questa amministrazione regionale, dal Consiglio regionale e soprattutto dal commissario. È stato supportato anche da Paolucci. Per quanto riguarda il pronto soccorso? Il pronto soccorso fa parte proprio del piano sanitario, quindi non si parla di chiusura del punto nascito come punto eclado, ma qua si parla di chiusura dell'ospedale, che comunque il punto nascito è una cosa relativa. Il problema è che qua si chiude l'ospedale. Noi come l'ospedale, come l'abbiamo conosciuto fino ad anni fa, che era il fiore all'occhiello della sanità abruzzese, insieme a Atri, in questi due ospedali alla zona interna erano dei fiori all'occhiello, davano prestazioni e servizi eccellenti, sono stati proprio chiusi, vengono smantellati, quindi è una scelta di tipo politica. Non avremo più un ospedale, ma ci sarà un presidio sanitario e secondo il piano sanitario regionale questo presidio sanitario avrà un pronto soccorso o un'emergenza, un servizio di emergenza e avrà 40 posti letto, i quali sono soggetti a verifica dopo un anno e quindi se non raggiungono gli standard vengono chiusi, cioè questo non ci piove. Questo è un attacco, il più grave attacco fatto alle zone interne, da che ricordi io che è parecchio tempo che seguo un po' le cose sociali e politiche della zona. E' una cosa vergognosa, ci hanno levato un diritto alla salute della gente, teniamo conto che già per arrivare a Penne da certe zone disagiate, parlo solo del comune di Penne, anche dei comuni limitrofi, ci vogliono ore per arrivare. Quando uno è arrivato a Penne già probabilmente è morto. Se non è morto qui a Penne dopo deve andare a pescare, parlo per esempio degli invartuati, parlo di che ha bisogno di rianimazione, deve essere spostato e quindi questa cosa non fa altro che peggiorare sicuramente la situazione dell'ammalato e della situazione sanitaria.